Buon pomeriggio amiche e amici, come va? Come state? Spero tutto bene, ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Oggi ho esagerato, amiche l'ho fatta fuori dal boccaletto, eh? Lo dico, sono passato! Allora, la sincera verità, la volete sapere? Qual è? Dovevo andare semplicemente in cartoleria a comprare un album per scuola per la regista. Dopo lavoro avevo questo compito e poi ho sentito il canto delle sirene, le ho sentite cantare. In realtà, ora, lo dico, stava mettendo a posto la vetrina, la vetrina della gioielleria. Mi ha salutato il mio amico che lavora in gioielleria e io, siccome in realtà sto aspettando un paio di orecchini, che sapete che ve l'avevo detto da... quanto sarà? Un mesetto e mezzo, perché poi c'era agosto. Ne avevo preso un paio, l'ho regalato alla regista, è semplicissimo, d'argento, tondo, con tipo gli strassettini, pagato pochissimo e desideravo averne un paio identico anche per me. E voi direte perché, sì, di solito, dico la verità, comunque lì igienizziamo sempre gli orecchini, però ce li scambiamo. Però questo paio in particolare io lo desidero da anni e anni e anni, ma tipo da 15 anni che cerco questo orecchino. Ne ho trovato un paio, ovviamente li ho presi prima alla regista, infatti lei li ama tantissimo e li utilizza molto spesso. Allora, lungi da me, cioè, chiederli lì poi quando li sto utilizzando o fregarli lì, perché comunque sono proprio quelli anche da ragazza, secondo me, proprio no? Carini da ragazzina, sono molto fashion perché hanno tutti questi zirconi, perché non sono ovviamente pietre di valore, perché l'orecchino tondo, per capirci. Forse ve l'ho fatto anche vedere in uno degli scorsi video unbox, dove avevamo qualche articolo d'argento, ho pagato tipo, non mi ricordo, 40 euro, super giù così, tondi d'argento, una quarantina di euro, ha tutti gli zirconetti davanti, fitti fitti fitti, e poi ce li ha anche nella parte dietro per dare luce. Quindi ovviamente anche non hanno una cifra, diciamo, importante, io comunque li avevo regalati tipo per la promozione, no? Perché comunque era un percorso, diciamo, abbastanza importante, è finita la terza media, comunque è stata bravissima, perché è stata, sapete, promossa con un bel voto, si è impegnata comunque tanto, e allora, insomma, gli ho riconosciuto questa cosa regalandogli gli orecchini e mi pare un braccialettino d'argento. Comunque, io non li ho presi per me, da brava madre li ho presi prima per lei, perché ho immaginato che si sarebbe spaccata tantissimo anche lei per questa tipologia, no? Di orecchino, infatti, tocca dire che ti è piaciuto tantissimo. Ora io imballo questo orecchino che dovrebbe, diciamo, arrivare a giorni, mandiamo tra l'altro un bacio grandissimo al nostro amico, che sappiamo che anche lui ci segue, ogni tanto guarda i nostri video, e quindi, con, diciamo, la voglia un po' di trovare quell'orecchino, stavo guardando la sua vetrina, che è sempre bellissima, no? Con tutti questi gioiellini d'argento e non solo, io tendenzialmente guardo quella con le cose d'argento, perché me lo posso permettere di più, no? Perché hanno un prezzo più basso, mi tolgo lo sfizio, magari del paio di orecchini, del braccialettino, del ciondolino, la collanina, con magari, dai, che ne so, dai 20 ai 40 euro, sto comprando una cosa che comunque mi piace tantissimo. Se la comprassi, anche per dire solo di un brand, come può essere Broadway, Morellato, oppure, che c'è anche, Pandora, Pandora si chiamano, questi brand, no? Che fanno robe d'acciaio, oppure d'argento, molto belle, perché io ho qualcosina comprato con i saldi, però non è abbordabile per me per togliermi lo sfizio, perché comunque mi va già in fascia prezzo medio, medio alta, secondo me, perché costa più, va dai 50 ai 100 euro, no? E sono piccolini, invece io ho gli occhi grandi, voglio le cose grandi, no? Non grandissime, però, insomma, tipo questi, no? Questi orecchinetti qua, d'argento, mi pare che li ho pagati, boh, 16 euro, e sono carini, no? Però li ho pagati veramente poco, e hanno una durata, secondo me, comunque eterna, perché l'argento d'oggigiorno non diventa nero, verde, come vi parlo di 30 anni fa, hanno una composizione differente per la quale dura veramente per tantissimo tempo, probabilmente dureranno più di quello che io posso vivere, no? E quindi per me non ha veramente senso, anche perché tendenzialmente lo posso perdere, non voglio avere l'ansia di perderlo, è capitato che si toglie un orecchino, lo perdi, se costa 20 euro, mi dispiace, ma mi dispiace meno, se invece perdo un orecchino che costa 200 euro, sinceramente io non ci rimango malissimo, sto là a cercare, e poi magari non userei più per la paura di perderne ancora, quindi io amo comprare qualcosa che mi piace, non me ne frega che sia di chissà che brand, non me ne frega nulla che sia chissà che materiale o pietra preziosa, mi interessa uno che non mi faccia allergia, secondo che sia magari una cosa che mi rispecchia, allegra o colorata, oppure elegante e sfiziosa, a seconda del mood della giornata, no? È quello che mi interessa, che mi renda felice, magari che mi dia una bella luce, poi non importa se non sono i gioielli della corona, no? Va bene, che mi piace, che mi faccia stare a mio agio e sentire bene, e questo vale per tutto, per me vale sia per i gioielli, sia per i vestiti, le scarpe, le borse, il make-up, un po' tutto, non mi interessa che sia chissà che roba di lusso, mi interessa che mi piaccia, che mi renda felice e se è un capo di abbigliamento, soprattutto che mi vesta bene e che non mi faccia allergia, quella è la cosa principale, anche appunto per gli accessori che indosso, è super importante per me che non mi dia fastidio, che non mi dia noia, quindi invogliata dalla vetrina, che è sempre ricca di novità, di cose sfiziose, la stavo guardando, e che fai? Non saluti, c'era! E allora ho detto, guarda, approfitto che ho visto due o tre cosettine carine, adesso le guardiamo bene da vicino, e con l'occasione colta al volo, sono entrata e ha sentito il canto delle sirene e le ho comprati. Ok. Adesso vi faccio vedere, questo plurale direte voi, sì, perché è più di uno, già ve lo dico, questo è lo spoiler. Un sacchettino piccolo, però pensavo ci fosse una cosa. Perché ci facciamo stare tutto. Ah, era per ingannare, ok. Era per ingannare, in realtà ci abbiamo fatto stare tutto qua. Però, prima di tutto, un occhio al pensiero di oggi. La delicatezza. La delicatezza. Come la delicatezza di quello che c'è qua dentro, la delicatezza nei gesti, la delicatezza nelle attenzioni. Quando, per esempio, mi viene da dire, no, uno spasimante, facciamo così, no, oggi siamo un po' romanticone, uno spasimante si avvicina, non nel caso mio, perché sapete che io sono già spasimata abbastanza, no? Spasimata in Veneto vuol dire spaventata, vera spasimata, io intendevo nel senso che ce l'ho lo spasimante, no? Ho il marito. Fortunatamente, c'è. E nel senso che sta bene, no? Perché mi è capitato qualche commento che mi hanno detto, tipo, mi posso mettere in prenotazione se sta male, cioè, non si fa, così è brutto. Ho inserito fatto una risata, il marito un po' meno, perché ovviamente lui già legge commenti e cose, ha riso un pochino di meno, perché ha detto, ma come, stanno aspettando come gli avvoltoi, e gli ho detto, ma sì, ma era per ridere, no? Io, tra l'altro, sono una che un sacco ride alle battute e non era su di me, ho riso di più. Sì, e comunque, io che sono già, appunto, stavo dicendo, spasimata, io ce l'ho lo spasimante, però facciamo finta che non ce l'ho, oppure torniamo indietro nel tempo quando non ce l'avevo, vengono da me, uno, anzi, perché troppi no, uno spasimata, regista sta a ridere, no? Cosa ridi? Niente. Poi a uno, basta, no? Giusto? Sì, beh, ok. È più che sufficiente, dice. Arriva e ti chiede innanzitutto una cosa molto semplice, come stai? E lì c'è l'interesse, nella delicatezza di questa piccola frase, c'è l'interesse di questa persona, che può essere anche uno spasimante, un amico, un parente, un vicino di casa, però è la cosa più importante, secondo me, chiedermi come sto. Adesso non vale se tutti i maschi si mettono a scrivere come stai, eh, ok? Perché voi, no? Può succedere anche quello, non vale. Allora, e ti chiede come stai, ed è la cosa più importante, e la delicatezza, adesso ci arrivo, di non insistere se ti dicono di no. Perché mi è capitato in passato, ve l'avevo anche raccontato, di chi magari, ma non solo, non facciamo caso mio, in generale, in generale, quando si dichiarano gli spasimanti, che siano maschi o che siano femmine, perché ne ho viste alcune di accanite, anche femmine, no? Gli spasimanti femminucce, che chiedono al maschietto in questione, o anche alla femminucce in questione, perché ormai, no? Ormai, ormai per fortuna oserei dire, è un mondo arcobaleno in tutti i sensi, in cui magari può succedere, e è giusto che sia così, no? Si dichiara un ragazzo a una ragazza, una ragazza a un ragazzo, un ragazzo a un ragazzo, e una ragazza a una ragazza. Così abbiamo detto per tutti, no? Sì. Se no poi mi dicono, ma perché hai fatto l'esempio solo così? Io sapete che sono a favore di tutti i sentimenti del mondo, basta che siano gentili, infatti qua stiamo pieni di arcobaleni, io più arcobaleno mi sono comprata agli orecchini, sono a favore super degli sentimenti, mi tocca dire super fluidi, va bene tutto, nel senso che basta che sia fatto con amore e con gentilezza, no? Quindi chiunque sia che si dichiara un'altra persona, l'importante è che sappia accettare se gli dicono di no, perché c'è anche chi poi si accanesce, insiste, insiste, non incassa il no, è vero che con altrettanta delicatezza bisogna anche mettere, frenzonare, come si dice adesso, mettere i paletti, cioè ti stanno tampinando, usiamo una parola, si può dire tampinare, è una brutta parola, tampinare, cioè nel senso ti chiedono, dice vuoi uscire con me? e tu dici, no, perché ho altro da fare, non è, cioè se vedi che quella persona non ha capito, no, perché ho altro da fare, forse non è sufficiente, se poi te lo richiede altre 18 milioni di volte, devi dire, guarda, secondo me, poi dite quello che volete, voi, e mi fate sapere anche i vostri pareri, in un modo un po' elegante e delicato, bisogna comunicare il fatto che comunque non li vuoi creare delle false aspettative, ok? Perché tirarla troppo per le lunghe alimenta delle aspettative che non sono corrette, non sono sane, non è giusto illudere le persone, quindi senza essere troppo bruschi, perché è sempre utile essere delicati, e si può dire, guarda, adesso non voglio mettermi a fare io le frasi fatte, però si può dire, guarda che sono già impegnato, oppure non mi interessa, in questo momento voglio stare single, perché potrebbe essere anche questo, abbiamo un piccolo visitatore qua di lato che forse vuole salutare, perché sento la presenza, l'opinionista, quanti giorni, ma sai che ti hanno fatto, ecco, una bella tossita in diretta, non fa niente, non puoi tossire, perché lui si stava trattenendo, poverino, ti hanno fatto un sacco di auguri, di pronta guarigione, perché io l'ho detto che stavi male ai giorni scorsi, e quindi ti hanno fatto un sacco, un sacco, un sacco di auguri, e anche a te, ovviamente, ma tu hai letto i commenti quando stavi male, ti hanno proprio fatto gli auguri di guarire veloce veloce, di stare bene, e anche a te, sono stati super carine, super carine, volevi raccontare qualcosa? No? Sei solo venuta a trovarci? Perché stava guardando, ora ve lo spoileriamo, ci è piaciuto così tanto, cosa stavi guardando in televisione, io lo so, Inside Out 2, 2, ecco, se sentite un po' di rumore, sta girando i pomelli dell'armadio, però magari che poi lo sentono, no, e dicono, ma che cos'è questo rumore, Inside Out 2, che è bellissimo, ci è piaciuto tantissimo, l'abbiamo addirittura guardato al cinema, ed è stato proprio bello, 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 e lo stai guardando dove? Su Sky? O su Netflix? Su Disney. Ah, l'hanno... Non si mettono d'accordo, qua io basita, perché io amiche, se non me lo dicevano loro, non capivo assolutamente, quando fosse uscito, io mi ricordavo, che dovevo uscire, più o meno in questo periodo, perché, mi son salvata, non ho comprato il DVD, ora speriamo che abbassino un pochino, il prezzo, per comprare il DVD, perché lui vorrebbe anche il DVD, l'opinionista per guardare, ma noi il primo ce l'abbiamo? Sì, allora tocca comprare il secondo, stanno facendo, se a qualcuno interessa acquistarlo, io che ho controllato per vedere se si abbassavano i prezzi, ho visto che su Amazon fanno il cofanetto con l'uno e il due, a noi non ci interessa, perché abbiamo già l'uno, ma chi lo vuole comprare così, fa un affare, perché l'uno è praticamente tipo in omaggio, e quindi paghi il due e anche l'uno, noi però l'uno ce l'abbiamo già e quindi, è come con la trilogia di Harry, trilogia sì, con la saga di Harry Potter, che io ho comprato l'uno, poi ho comprato il due, poi ho comprato il tre, se li compravo tutti assieme alla fine, li pagavo tipo un terzo, no? Eh, non si poteva sapere. È la voglia di averli subito poi, no? Che gioca a sfavore, poi dicono, li lanciamo così tanto, loro sanno che li hanno già comprati, no? Un botto di gente, e dicono a chi magari non li interessa tanto tanto, siccome è conveniente, però lo compra. Quindi, volevi dire altro, se no, continuo? Ah, ok, va bene. Ciao, ciao tesoro. Ci voleva solo dire che sta andando dall'aiuto regista, e quindi, ok, va a giocare. Però parlano tutti sotto voce, qua, come il marito quando passa tutto, tutto piano piano, niente, non ci possiamo fare nulla. Nulla. Così sono, l'unica che c'ha un volume incredibilmente alto qua, sono io, e, se mi incontrate per strada, innanzitutto, ve lo dico, fermatemi tranquillamente, perché io non vi posso fermare, perché non vi posso riconoscere dal viso. voi fermatemi tranquillamente, salutatemi, anch'io vi saluterò, se mi dite che mi seguite su YouTube, o da qualche altra parte, io capisco, no? Che ci conosciamo, e per me è bellissimo, e sentirete che il mio volume è questo. Già, non è diverso. Non è diverso, no, oggi sono andata a comprare due, tre cosine, dovevo prendere le verdure, e ho fatto uno show, praticamente, perché poi sono uscita, sono rientrata, mi sono di meglio, ho detto, ah, perché? Dimentica! Poi mi sono accorta, perché vedevo la gente dietro così, tipo, tutto bene, e io, eh, scusate, no, tranquilla, ormai siamo abituati, e io, ma conno, ho detto, ok, va bene, e quindi così, ho perso un po' il filo, quando è arrivato, l'opinionista, e la delicatezza di, ah, sì, la delicatezza delle conquiste dei fidanzati, no? Di come frenzonare in modo gentile, perché secondo me è sempre meglio non far arrabbiare, anche se è una parola che non mi piace, perché le identifico un po' più con i cagnolini, no? Arrabbiare, l'arrabbiare dei cagnolini mi viene in mente, non mi piace questa parola, preferisco utilizzare, infastidire, non è bello fare infastidire i pretendenti, qualunque, diciamo, essi siano, se dei nuovi pretendenti, o pretendenti storici, che tornano all'attacco, dopo magari un po' di tempo, quindi è meglio mettere innanzitutto le cose in chiaro, e lì la delicatezza ci vuole tutta, però chiarezza e delicatezza, vanno sempre, diciamo, di pari passo, in questi casi, delicatezza nel comunicare le cose che non vanno bene, perché a volte mi è successo, me l'hanno fatto notare da poco, che sono stata poco delicata, io che pensavo di essere sempre delicata, il marito mi ha detto che non sono stata delicata, io ho detto, ma perché, cosa ho fatto? praticamente, non so neanche più in merito a che cos'era, però io, cos'è che gli ho detto? Ah, se per te va bene, si potrebbe fare così, però ero infastidita, questo è il problema dello smart working, stavo lavorando, no, in smart, e avevo appena, appena, finito un lavoro, diciamo, un pochino fastidioso, e quindi ero un po' così, un po' infastidita, e dovevo fare da mangiare, ecco il pranzo, no, la cena, ho sbagliato, dovevo fare la cena, e non mi ricordo più, c'erano di queste verdure da fare, e io mi sono girata, perché mi ha chiesto, no, eh, ma cosa facciamo? Le facciamo le verdure per cena, e io mi sono girata e gli ho detto, eh sì, adesso le facciamo le verdure, però era perché non ero ancora uscita dall'ottica del lavoro, no, ero ancora infastidita, e quindi non sono stata delicata, lui si è chiuso al riccio infastidito, e poi io gli ho detto, ma perché mi fa, perché non me l'hai detto in un modo, perché me l'hai detto così, e io ho intuito che non sono stata delicata, allora poi ovviamente ho chiesto scusa, perché io non amo vedere i musi, non amo infastidire, ho chiesto scusa, è tornato l'opinionista, ciao, non ti avevo visto, ma ho sentito la tossita, hai deciso di stare un po' qua con noi, niente amica, è scappato un'altra volta, voleva chiedermi una cosa di scuola, ma non si fidava a interrompere, me l'ha chiesta, e poi è scappato, va bene, ok, a volte lo fa, quindi nel nostro argomento della delicatezza, è un argomento vastissimo, che se no dovremmo stare qua, tipo 18 milioni di ore, tu cosa ne pensi della delicatezza, sei a favore, sei contro, cioè io non mi piace quando la si tira troppo per le lunghe, ecco, con le questioni, quindi essere delicati non vuol dire trascinare, essere delicati vuol dire dirlo in modo diretto, ma gentile e contatto, qualsiasi cosa sia, tu cosa ne pensi? sì, penso che sia giusto, perché ci vuole modo, secondo me, a dire le cose, non si devono dire in maniera sgarbata, non si devono dire in modo offensivo, non si devono dire trascinandola troppo per le lunghe, ecco, oppure in modo troppo diretto, cioè che faccia male, ok, quindi questo è il mio pensiero in merito alla delicatezza, che poi ha mille mille sfaccettature, fatemi sapere se volete un video dedicato, dove approfondiamo questo argomento, a me piace un sacco parlare di questi argomenti, diciamo un pochino tra le righe, si può dire così, perché sono un po' una mezza via, anche un po' astratti, però amo tantissimo per parlarne, perché la mia mente, come penso quella di tutti, ha delle opinioni che sono date da tante sfumature, tante sfaccettature e quindi ragionamenti sempre di tipi diversi, no? se poi ci confrontiamo le mie con le vostre, ne verrà fuori, secondo me, una roba atomica, nel senso che viene fuori proprio un discorso bello, corposo, quindi ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, però non voglio tediarvi con una roba troppo lunga, e forse anche un po' mi direte voi nei commenti, forse l'argomento è un po' noiosetto, forse è un po' noiosetto, ma di sicuro non è noiosetto, il pacchetto che c'è qui dentro, vado, l'avete già visto nella foto iniziale, e eccolo qua, è molto carino, mi ha voluto mettere la coccarda, anche se in realtà io gliela avrei fatta risparmiare, ma ormai l'aveva attaccata, perché la bustina me la dà tutte le volte, la busta è sempre carina, mi sembra sempre diciamo un peccato, uno spreco, perché in realtà io non lo devo regalare, e lui lo sa benissimo, io lo dico, non è che gli dico devo fare un regalo, però lui è super gentile, e mi dà sempre anche la bustina, voleva addirittura farmi il pacco regalo con la carta, e io non l'ho assolutamente voluto, perché mi sembra uno spreco inutile di carta, poi gli ho detto io come i bambini fuori dalla porta, lo sto già aprendo, quindi assolutamente no, ma il tempo che non ha fatto, sì, neanche il tempo a dire, Bacca aveva già attaccato la coccarda, se no io avrei risparmiato la coccarda, perché l'ho detto anche a lui proprio, tutte le cose hanno un costo, questa busta ha un costo, questa coccarda ha un costo, magari costerà, non lo so, 30 centesimi, 20, e comunque ha un costo, io in realtà da qua, per una comodità, l'andrò a staccare, però mi piange il cuore buttarla, ma che fai, la ricicli, non è che puoi riciclare tutto, tra l'altro, ecco, vedete, si stacca proprio facile, quindi, o dici, faccio un pacchettino, e intanto la attacchi su una plastichetta, però, non le posso mettere con la coccarda, nel cassettino, insomma, metterle via, perché è scomodo, e quindi, la coccardina già, è attaccata poco poco, la stacchiamo, però, si vede che gli sa più, no, carino, mette sempre le coccarde, siete un po' curiosi, di vedere cosa ha comprato, cosa ha comprato, la vostra streghetta preferita, e la regista è curiosa, perché la regista non lo sa, ah sì, non lo so cosa c'è, allora, vado, vai, rullo di tamburi, sono un po' da signora, forse, si usano, secondo me, tantissimo, anche lui, mi ha confermato, che si usano, tanto, tanto, e io, ho scelto di comprarli, sono, allora, un paio è lucido, e un paio è ghiacciato, ora, li, tiriamo fuori, e me li provo, facciamo una cosa diversa, dal solito, me li provo, e mi dite, se mi stanno bene, magari ne provo, uno, come si chiama, ghiacciato, e uno liscio, così vediamo la differenza, e mi tolgo i miei, sono fatti tipo a goccia, sì, si usano tantissimo, allora, togliamo via questi, ma adesso ho notato, che in generale, si usano tanto quelli fatti, grandi, cioè, sì, allora, io troppo grandi, non me la sentivo, cioè, che sembrano anche pesanti, a vedere, io, infatti, sai che ho voluto, proprio, sentire, aspetta che qua, togliere, la farfallina, e poi in realtà, adesso si usano, mi sembra, un po', cioè, sia argento che oro, un po' in base a come piace, a come ti sta bene, c'era anche dorato, però secondo me, avevo paura, che cambiasse colore, aspettate, che qua, mi si è incagliato, faccio così, ok, così vado meglio, non mi ricordo, ah, ok, sono riuscita a smu, perché ho sempre paura, a tirarli fuori, la prima volta, da qua, ho paura, perché io poi l'appoggio, di romperlo, è fatto così, guardate che carino, di è, allora qua, sono diversi, le due tipologie, questo è fatto concavo, diciamo, ha la stecca qua, ah, non è pieno questo? no, infatti io l'ho voluto vedere, sentire, e non è per nulla scomodo, tra l'altro, sembra tipo che ha le pietrine, ma ha le pietrine, non è solo ghiacciato, giusto? sono pietrine queste, a me sembra di sì, che carino, io non me ne ero accorta, mi sembrava solo ghiacciato, io ho una talpa, in un'altra vita, adesso rimarrà, uno su e uno giù, perché sono fatti diversi, devi stringerlo di più, sì, può essere anche che a me, non stiano bene, così ho stretto troppo, non rimane bene, non ti piace? no? su di me no? li abbiamo visti, forse va fatto, andrebbe portato, perché c'è, quello è il buco, che ce l'hai fatto in basso, cioè che ce l'hai, questo sull'altro, me li hanno fatti storti, perché ce l'hai qua, però non ti sta male, è pazienza, ormai hai comprato, no ma è bellino, questo invece, non è, sì, è leggerissimo pure, ed è, bucato sotto, non so se si vedrà mai, ma c'è, quindi è vuoto dentro, sì sì, sono sempre vuoti, per non scoppiare, quando fanno la lavorazione, così mi avevano spiegato, quando ero piccola, un orafo me l'aveva spiegato, quando ero piccolina, che sono sempre, le gocce bucate, per non esplodere, o rovinarsi, durante le lavorazioni, anni prima, le facevano piene, poi siccome erano pesanti, hanno iniziato a farle, vuote, ma col buchetto sotto, per non rovinarsi, però non lo so, la spiegazione tecnica, sì, quale sia, ecco, è bellini comunque, diversi, non hai fatti così, infatti, uno diciamo che ha, così si capisce meglio, mettendoli di fianco, allora, uno, ha la, stecca, nella punta in alto, e uno in mezzo, quindi uno rimane più alto, e uno più basso, si vede, secondo te, si capisce? gira lo di lato, così, ok, sono molto carini, secondo me, e non costano neanche tantissimo, guardavo che è bucato anche, qua in alto, e qua in basso, e sono ad argento, il prezzo, è sui 50 euro, nel senso che tipo, l'ho pagati, mi pare 48, il prezzo preciso, posso dire, che secondo me, sono molto, molto carini, belli sì, non hanno lo stesso prezzo, uno mi pare che sia 48, e l'altro 51, ecco, costano come fascia prezzo, un po' di più, a quelli a cui sono abituata, perché questi 16, gli altri che avevamo unboxate, le scorse volte, 25, 30 euro, questi sono, diciamo, tra i più costosetti, però, anche una lavorazione diversa, ed è un oggetto, più alla moda, diciamo così, perché si usano, quindi penso, che rispecchi un po' anche l'andamento di mercato, e dopo questa perla, oggi veramente, perle qua, e non solo perle, anche orecchini, ecco esatto, fatemi sapere, nei commenti, quale di questi due, orecchini, vi piace di più, io non ho resistito, ne ho combinata, un'altra delle mie, però, devo dire, che a mia, diciamo, non di scolpa, però, dalla mia parte, c'è il fatto che, è perché ho sentito cantare le sirene, è una mica colpa tua, e poi sono andata, in un negozio fisico, quindi sono stata bravissima, no, ho fatto girare, l'economia del territorio, e al canto delle sirene, come si fa a resistere, ditemelo voi, nei commenti, come si fa a resistere, al canto delle sirene, e voi direte, spendendo o meno, e avete ragione, avete ragione, la parola segreta, di oggi, è, il canto, delle sirene, ok, così capirò, che mi avete seguita, fino a questo punto, e l'emoji segreta, di oggi, è quella della sirena, e non la sirena, dell'ambulanza, non mi dite, che me la state mandando, della sirenetta, certo, di una bella sirenetta, e così, mi farete, veramente, super felice, io sono molto contenta, di questi acquisti, e me lo dico, adesso la cira, manca i altri, no, sono partiti 100 euro, quindi, adesso sono a posto, per questo mese, e anche il mese prossimo, a meno che, non mi porti quegli orecchini, che sto aspettando, non comprerò nessun altro gioiellino, ne riparleremo a Natale, quest'anno ho cercato anche, di darmi un contegno, con i calendari dell'avvento, so che voi, scusate, mi avete chiesto, già in tanti, di comprare, o se comprerò, come domanda, calendari dell'avvento, abbiamo un po' controllato, con la regista, perché io non voglio guardare dentro, mi voglio lasciare la sorpresa, ma la regista, mi ha detto, che non avrei nessuna sorpresa, con certi calendari, dell'avvento, perché sono, ripetute, degli scorsi anni, di alcuni, cambia solo il pack, esterno, quindi, meglio, c'è di alcuni, cambia proprio, uno, due prodotti, di quelli, dico, che avevamo già preso, gli anni scorsi, peccato, sì, cioè dipende, cioè, ti era piaciuto proprio tanto, allora sì, lo riprende, però deve utilizzare, quei prodotti, io penso, che prenderemo, i prodotti nuovi, di più brand, per vedere, appunto, le novità, però, se nei calendari dell'avvento, non ci sono novità, ma ci sono prodotti, che si ripetono, non ha molto senso, spendere magari, 200 o 250 euro, con dei prodotti, che già abbiamo, perché noi, qua, in questo canale, dobbiamo sperimentare, prodotti nuovi, alla fine, no? Non è che dobbiamo, catturare lo sguardo, aprendo delle cose, mastodontiche, il nostro obiettivo, non è catturare sguardi, ma è coinvolgere, con piccole cose, tenere compagnia, provare, delle piccole cose, che tutti, possono comprare, non ha senso, che io vada, no? A fare una spesa, più grossa, della mia tasca, perché io vi dico, la sincera verità, per comprare i prodotti, l'anno scorso, per esempio, di zia Carlotta, ho dovuto, risparmiare, un paio d'anni, era da anni, che sognavo, di prenderli, però, per tre anni, mi sono tenuta, comprando, diciamo, poco e nulla, e quindi, poi, a Natale, verso Natale, mi ero sbizzarrita, con voi, comprando, la mystery box, la calza, il calendario dell'avvento, e la, il forziere, il forziere, che io chiamerò, per sempre, il forziere dei bucalieri, che erano, i pirati, quelli dei cartoni animati, in realtà, è il forziere, di cosa? Di zia Carlotta? Si, si chiama, il forziere, Dream's Come True, mi parla, ah, Dream's Come True, ok, e quindi, eh, sono stata, e sono tuttora, super felice, di quei prodotti, li ho sempre qua di lato, a me, nella Makeup Collection, li uso, io, ogni tanto, nei video con voi, nulla è andato sprecato, perché, li ha utilizzati, tantissimo, la regista, perché Pillow Talk, è facile da usare, anche da una teenager, no? Perché ha delle colorazioni, tenui, delicate, che piacciono tantissimo, alla regista, quindi, tranquilli, e tranquille, che non abbiamo sprecato, nulla, se abbiamo, poi, delle cose, che, io non uso, nei video della mattina, sapete che le diamo, alle amiche, ai parenti, vicini, eccetera, eccetera, persone, ne abbiamo tante, no? A cui dare, ed è giusto, non tenere, quello che non si utilizza, però, non è che io, tutti i giorni, posso fare il make up, con il quad di zia Carlotta, cambio, soprattutto, perché a me piacciono i colori, quelli carichi, oggi non si direbbe, vedendomi così, ma sapete che io mi sento, veramente, bellina, con questo rossetto, messo così, oggi, ecco, ero a mio agio, mi son sentita, a mio agio, mi son sentita, lo posso dire, troppo io, oggi ero così, il mood era questo, domani non si sa, domani magari sarai verde, potrei essere verde, potrei essere celeste, potrei essere gialla, arancione, dipende un po' come mi sveglio, infatti, io di solito, non preparo, la sera prima, ma scelgo, al momento, la mattina, quando mi alzo, prima mi trucco, poi scelgo la giacca, oggi non ci sta per nulla, la giacca, però invece, i giorni scorsi, non so se avevate notato, il giorno che avevo, il make up autunnale, avevo l'ombretto un po' sul verdino, avevo la giacca verde, il giorno dopo, era sempre con altre palette, ma più o meno lo stesso make up, e avevo la giacca un po' albicocchina, come la parte interna dell'ombretto, era verde fuori albicocca dentro, e quindi ho fatto la giacca, diciamo, quindi al contrario, prima mi metto il make up, se così si può dire, indosso il make up, mi trucco, e dopo scelgo l'outfit, che più o meno gira e rigira, sono una persona normale, no, come tutti voi, no per là, come si potrebbe dire, un po' l'asciura della porta accanto, insomma, sì, sì, sono un po' la zia anch'io di tutti, la nonna quasi, però insomma, dai, la zia della porta accanto, che quelli c'ha, no, le camicette, che queste qua, sono le camicette che ho da 15 anni, comprate, perché sapete che siano larghissime, quindi sono super comode, le avevo comprate, quando aspettavo il primo figlio, ce li ho in, non dico 22 colori, ma forse 18 sì, e quindi queste, le ho trovate, per esempio, elegantine, quest'anno mi è venuto in mente, le ho riesumate, da un cassetto, dove le avevo messe tutte assieme, perché l'anno scorso, vestivo un pochino più, forse un pochino più attillatino, no, con delle canote, più stile only, così, invece, un po' più, come si può dire, più sportive le canote, invece, quest'anno, ho deciso di utilizzare, queste canote, che mi sanno, un po' più elegantine, le avevo pagate, cioè, io troppo contenta, tipo 2-3 euro al mercato, l'una, e avevo preso, proprio tutti i colori, che trovavo, all'epoca, 15 anni fa, dove non c'erano, tutte queste piattaforme, dove comprare, i vestiti, dove c'era anche meno assortimento, in negozio, mi viene da dire, ma al mercato, trovavi delle chicche, incredibile, a poco prezzo, e mi ero presa, diciamo, una settimana, io mi ricordo, che ero a casa, che stava per nascere, la creatura, e quindi, quando stavo a casa, che magari andavo a fare, gli esami del sangue, mi mettevo, perché ero macchiavellica, ero furba, mi mettevo gli esami del sangue, il giorno che facevano il mercato, così, andavo, a fare il prelievo del sangue, poi avevo, ancora, magari, mi prendevo, attaccavo due rette di permesso, mi mangiavo una brioche, perché dovevo riprendere le energie, intanto che mangiavo la brioche, mi guardavo il mercato, e per andare a ritirare la macchina, per poi andare a lavorare, mi prendevo, di passaggio, due colori, sei euro di camicette, e quindi, diciamo che, magari due, tre camicette, così, da, in un po' di volte, mi sono comprata, tutte queste camicette, super carine, che poi, le ho lavate sempre in lavatrice, ma non si sono mai invecchiate, a distanza di 15 anni, sono perfette, e quest'anno, con le giacchettine, no, di rinascimento, ho deciso di abbinare, tra l'altro, si usa questo colore, che è color, borgogna, vergogna, forse, perché ho sbagliato il nome, non è bordeaux, no, è diverso, sì, però si usa borgogna, mi sembra, potete scrivermi vergogna, se volete, perché non lo so se è giusto, mi vergogna in questo momento, perché non mi ricordo, me l'ha detto anche, una mia amica, l'altro giorno, io non mi ricordo più, come si dice, comunque, bordeaux, diciamo, dai, e secondo me, ci sta un sacco bene, con il nero, sognando di avere la giacca, di questo colore, che sapete, che è in pre-order, non vedo l'ora che, di averla nelle mie grinfiete, ma se tutto va bene, ce l'avrò a novembre, mi sa, mi sono tolta la voglia del colore, mettendo la maglietta sotto, la camicetta, che è uno smanicatto, è proprio un sottogiacca, secondo me, e quindi, super carina, super felice, ma non divaghiamo oltre, perché mi sa che oggi, ho veramente detto un sacco di cose, mi è piaciuto tantissimo chiacchierare qua con voi, devo dirvi la sincera verità, vi devo ringraziare, questo di solito lo faccio la mattina, no? Così, vi devo ringraziare tantissimo, perché mi scrivete tutti i giorni, dei commenti bellissimi, mi dite come state, mi dite cosa vi succede nella vostra vita, mi dite quello che sentite nel cuore e nell'anima, e io sono così toccata nel profondo da questa cosa, così contenta, che voi non ve lo potete nemmeno immaginare, come avete arricchito la mia vita di sentimenti, perché proprio, non so se hai visto dei commenti bellissimi, in questo ultimo periodo, abbiamo dei commenti profondi, io ero molto preoccupata, perché non sentivo due di voi da un po' di giorni, sapete che io mi ricordo un sacco i nomi di tutte, infatti, voi ditemelo se non volete, io non lo faccio, però vi sto salutando, scrivendo il nome, perché mi sa un sacco bello, tipo con le amiche, no? E mi sa tanto bello, se per caso il nome che uso non va bene, al limite me lo dite, però io vedo il nickname, allora, se mi sembra che possa essere un nome, diciamo, che posso utilizzare, e non un nome magari troppo fantasioso, che non potrebbe, magari non fa piacere a quella persona, se lo saluto con un nickname numerico, no? Se ha un nickname, che ne so, 123789, non è che dico ciao, 123789, ma se è con un nome, io sono molto felice di utilizzare il nome, mi ricordo tantissimo, quello che scrivete, per dote mia, memonica, si dice così, no? Memonica, memonica, una roba così, vabbè, insomma, che mi ricordo le cose, e quindi mi ha fatto super piacere, risentire soprattutto, due di voi, perché ero molto preoccupata, che erano un paio di giorni, che non vi sentivo, e poi una mi ha proprio scritto, anche il motivo, che insomma, non si sentiva, quindi, loro capiranno, queste due amiche sicuramente, che stanno capendo, che sto parlando di loro, io vi mando un bacio grande, grande, e sono molto contenta, sì, di avervi sentite, perché, ero un po' preoccupata, e mi sembrava un pochino, brutto insomma, chiedere proprio, dicendo il nome, nel video, e dicendo, scusate, ma state bene, come state, tutto ok, però, ecco, come le amiche, quelle che si vedono, e si sentono tutti i giorni, ero preoccupata per voi, quindi, io vi ringrazio sempre, tutti e tutte, per i commenti, che lasciate sotto i video, mi fanno super compagnia, e super piacere, vi leggiamo ovviamente, tutti, anche la regista, lei non risponde, perché è ancora piccolina, però, diciamo che in futuro, penso che, se le farà piacere, risponderà anche lei, se no, a me fa piacere, rispondo io intanto, un po' anche a nome di tutti, quando magari, io sono là, seduta nel divano, leggo il commento, un po' a tutti, allora poi, mi dicono, anche loro, cosa gli fa piacere, che risponda, ed è un po', diciamo, una risposta generica, del team, per quello, spesso scrivo, un bacione da tutto il team, perché, è vero che proprio così, perché sto leggendo, magari, commenti proprio al team, bene, io direi che, se la regista vuole aggiungere qualcosa, questo è il momento giusto per farlo, mi sa che abbiamo detto tutto, abbiamo già detto tutto, allora, amiche e amici, mi raccomando, parola segreta, emoji segreta, a condividere il video, con tutte le amiche, e gli amici, che, amano, il make up, ma anche, i gioiellini, a basso costo, e soprattutto, le chiacchiere in compagnia, perché questo ci aiuta, a far crescere, proprio, la family, il canale, e dà un boost, in più, al canale, per cavalcare, l'algoritmo, che non è una cosa brutta, ma è una cosa bella, perché, se anche noi cavalchiamo, un po' l'algoritmo, guadagniamo un po' di più, e possiamo comprare più make up, da provare insieme, no? E quindi, è tutta cosa buona, è tutta cosa in più, che possiamo utilizzare, per, i prossimi video make up, di unbox, e, in quelli dove proviamo, la mattina, e, ultima cosa, anzi, penultima, se non siete iscritti, iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, l'iscrizione, ovviamente, è gratuita, e come dico sempre io, c'era mancai, a, tragosa, come sempre, vi mandiamo un bacio, grande, 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 prima però, vi ho visto, se non l'avete ancora lasciato, correte a lasciare, un like, come il canto delle sirene, non lo so, ammaliante, lasciate un like, ammaliante, così capiremo, che il video, vi è piaciuto, e ora si, vi mandiamo un bacio, grande, 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 e ci vediamo, nel prossimo video, ciao amiche e amici, fate le brave, e i bravi, buona serata, ciao a tutti,